Ragazzi, ma cosa fate a casa il 22, il 23, il 24 luglio? Ma io niente! E allora, ma non sapete cosa c'è in Val di Susa? Cosa c'è? Io sì, lo so! Lo so! C'è il festival! C'è il festival dell'alta felicità! E allora! Si lasciano a casa i telefonini, si lasciano a casa le macchine, si portano gli zaini e le tende si fanno camminate a bassa velocità, ci si diverte da impazzire e si chiava, si chiava! Adesso! Andiamo, andiamo! Si! Ascoltate tutto il fatto!